Non sono contento della mia stagione F1, Rai Conan, non sono contento della mia stagione Voglio vincere delle gare, ma sono veloce e non sono preoccupato. La stagione di Kimi Rai Conan è finora stata caratterizzata da alti e bassi e lo stesso finlandese della Ferrari pretende di più. Non sono contento dei miei risultati. Voglio vincere delle gare, voglio lottare per farlo sempre e quest'anno non è successo troppo spesso. Anche quando le cose sono a posto, succede qualcosa d'altro. Sono veloce, quindi non sono preoccupato di questo. Bisogna però mettere tutte le cose al posto giusto, ha detto ad Autosport. Se consideriamo tutte le gare disputate finora non sono molto felice dei risultati, ma è andata così e non possiamo cambiare le cose", sottolinea il finlandese, la cui ultima vittoria risale al 2013, in Australia. Se è abbastanza per il futuro non lo so. Il team sa cosa voglio, ma alla fine devono scegliere ciò che ritengono sia meglio per loro. Il mio unico obiettivo è fare bene, nient'altro, non voglio solo partecipare. Non è sempre divertente quando le cose non vanno come speri, ma è così. Dipende da molte cose, siamo veloci, ma a volte non basta la velocità se il resto non va come speri. Marchionne, ottimista per il titolo. Ciao! Ciao!